I'm a do these kids, yeah they murder me E ben a tutti ragazzi, eccoci guardati dal vostro KikosGara422 Ragazzi, stamattina hanno fatto un aggiornamento pazzesco 6.10 Ragazzi, oggi vi farò vedere tutte le skin nuove della versione 6.6 La prima abbiamo la zucca triste Molto bella Poi, abbiamo questa qua, che questa qua è molto bella Ritratta, no, non so se lo conoscete, l'ombra di Mordow È un gioco bellissimo che alla fine c'è questa skin qua Poi, passiamo subito avanti, abbiamo questa qua, che è la donna Molto bella Questa qua è molto bella ragazzi, ve la consiglio di prenderla Poi, passiamo subito avanti e abbiamo questo qua Un cinese Cinese talebano Bellissimo, con il dragone qui Molto bella Questa qua mi sa che la comprerò Poi abbiamo questa qua, che mi piace tantissimo Perché è la ragazza della Durgar King Questa qua è molto bella Questa qua la prenderei anche Costa solo 1200 V-Bucks Poi, passiamo subito avanti con Ah, questi qua non sono niente Andiamo avanti Poi abbiamo il primo deltaplano, ragazzi Questo qua è molto bello Molto bello ragazzi, questo qua Questo qua è molto bello Poi andiamo subito avanti Abbiamo quest'altro deltaplano qua, che fa parte di questo qua Questo qua Questo qua Poi abbiamo questa qua, è vicino Crocevia Una pista nuova Pista per i SUV Quella nuova Per i quad Quelli nuovi Che sono molto belli Poi andiamo subito avanti Ah, ragazzi Queste qua poi quasi faranno le prove a tempo Quelle nuove Poi andiamo subito avanti Qua è un'altra foto che ho fatto Molto bello Questo posto qua Perché ci sono quattro casse dentro Poi ci sono due casse qua Una cassa dentro qua Che non è bella Però è bella, mi piace a me Poi Pinnacoli Stanno ristrutturando tutta Pinnacoli Ragazzi Stanno facendo qua Ma dovevano fare qua Qua Si sa Questa qua La distruggono sempre Poi La dovranno rimontare tutta Ragazzi Le barchette Stanno togliendo Spero che la li fanno più bella Poi Questa qua sarà la skin In game Molto bella La barba lunga Ecco ragazzi Ora vi faccio vedere Come saranno proprio le skin Nel gioco Queste qui ragazzi Guardate Questa qua è la prima skin Sarà 1200 V-Bucks Costa solo Molto bella Poi abbiamo questa qua Che sarà Leggendaria Bellissimo Che si chiama Aspetta Questa qua si chiama Onesie Poi abbiamo questa qua Archige Molto bella Poi abbiamo questo qua Guanyu si chiama Guanyu Bellissimo ragazzi Ah è epico Costa anche 1500 V-Bucks Poi abbiamo questo qua Speeder Kings Bellissimo ragazzi Questo qua Poi abbiamo Poi c'è il primo torneo Questo qua Che si farà Da oggi Fino al 21 ottobre Poi si farà questo qua No Un attimo Aspettate Si si farà Allora il primo torneo È questo qua Poi ci sarà Il secondo torneo Questo qua Poi il terzo torneo Poi il quarto torneo E poi alla fine Il quinto torneo Questo qua ragazzi Che si farà duo Ragazzi Mi raccomando Per questo video qua Lasciate tantissimi Pollingi su Ragazzi ci vediamo Questa sera Alle 18 in live Bella raga Ciao